Un contratto di comodato d'uso gratuito con rete ferroviaria italiana per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via stazione di Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. L'aggiunta comunale di Capaccio Pestum, presieduta dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato la proposta contrattuale con RFI per la concessione delle aree, una superficie di 2.550 metri quadrati. Il parcheggio, il cui progetto definitivo è già stato approvato, sarà gratuito a beneficio della cittadinanza e degli utenti dei servizi ferroviari e fungerà anche da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani. Sulle aree, inoltre, saranno realizzati diversi spazi verdi e, in linea con le politiche di mobilità sostenibile sposate dall'amministrazione comunale, saranno posizionati degli stalli portabiciclette. Le spese per gli interventi di riqualificazione dell'area saranno a carico del comune. Grazie a un contratto di comodato d'uso gratuito con RFI, un nuovo parcheggio adeguato e sicuro sarà presto a disposizione dei cittadini della nostra città e dei fruitori della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Infatti, dichiara il sindaco Franco Alfieri, abbiamo già approvato il progetto definitivo e acquisito il parere della sopraintendenza. Il parcheggio sarà utile anche per migliorare la regolamentazione del traffico stradale, il suo deflusso da e per il centro urbano di Capaccio Scalo. In questo modo forniremo un altro importante servizio alla comunità di Capaccio Pestum.